Rubavano auto di grossa cilindrata, tralinata e malpensa, e dopo i colpi rientravano a Milano nascondendo i bolidi nei garage sotterranei. Sono stati smascherati da carabinieri e polizia. Un grande convegno organizzato dalla CISL pone in risalto l'esigenza del cambiamento nella vita del sindacato e delle categorie alle prese con un'economia in continua trasformazione. Allo scienziato, studioso, archeologo Salvatore Settis, il premio Varesino intitolato a Salvatore Furia, oggi la cerimonia con la piantumazione di un albero e giardini estensi. Un magnifico gesto di generosità ha portato i coniugi Fantinato, freschi di matrimonio, a rinunciare ai regali di nozze per convogliare i doni degli ospiti verso l'ospedale del Ponte e acquistare un prezioso apparecchio. Buonasera a tutti, bentornati alla nostra informazione. La cronaca in apertura rubavano auto di grossa cilendrata nella zona degli aeroporti e poi le portavano a Milano per nasconderle nei sotterranei. Ma questa banda è stata poi sgominata grazie alla proficua collaborazione tra carabinieri e polizia. I dettagli. Rubano auto a Malpensa e Linate, arrestati. Nei guai due cittadini albanesi che facevano parte della banda dei Range Rover, specializzata in furti di mezzi di grossa cilindrata e colpi in appartamento. L'indagine, condotta dai carabinieri di Varese, ribattezzata EVOC, in riferimento a uno dei modelli più gettonati dai malviventi, ha preso il via alla fine di settembre dell'anno scorso grazie alla sinergia con la Polizia Giudiziaria della Polaria di Malpensa, che controlla un impianto di videosorveglianza aeroportuale composto da più di 2.000 telecamere. Nei fatti, i malviventi partivano dall'Interlanda milanese a bordo di auto rubate o di proprietà, e dopo essersi impossessati di Range Rover parcheggiati nei posteggi degli aeroporti, si allontanavano, o sfondando la barriera in uscita o approfittando del passaggio di un altro veicolo. A Milano i ladri disponevano di box interrati dove parcheggiavano le auto, rendendole invisibili ai sistemi di rilevazione satellitare. Una volta bonificati, i mezzi venivano ceduti a ricettatori su cui gli inquirenti continuano tuttora ad indagare. I carabinieri hanno attribuito con certezza alla banda cinque furti di Range Rover e uno di una Jaguar, che il gruppo criminale utilizzava anche per compiere ulteriori reati. Due degli indagati sono inoltre ritenuti responsabili di una serie di quattro furti in abitazione, consumati nelle province di Ravenna e Brescia. Vere e proprie razzie di denaro, abbigliamento, gioielli e in un caso anche di un'auto. Gli arrestati sono stati condotti alla casa circondariale di Busto Arsizio. Un mondo del lavoro che cambia e che si trasforma a pari passo con quanto accade all'impresa e tanti altri settori della nostra società. Ieri ne abbiamo parlato numeri alla mano, forti di una ricerca commissionata da CISL dei Laghi. Oggi siamo andati a seguire il convegno che proprio il sindacato ha organizzato coinvolgendo altri colleghi e le associazioni di categoria. In attesa di uno speciale che faremo sabato, ecco l'anticipazione. È una realtà in continua evoluzione, è una realtà che richiama il sindacato a cambiare se stesso, se vuole continuare a essere protagonista di un mondo che cambia, un mondo del lavoro che cambia, un mondo della produzione che cambia. Nelle parole del segretario Ducci c'è il succo del grande convegno portato a Villa Ponti dalla CISL dei Laghi. La necessità di un cambio di passo che coinvolga tutti i corpi intermedi nella loro fondamentale attività di rappresentanza e formazione. Sullo sfondo la ricerca riassunta ieri da Rete55 è ben illustrata dal professor Elio Montanari. Dieci anni in cui tutto, imprese e lavoro, ha subito un profondo radicale stravolgimento spostando il baricentro dell'economia dal manifatturiero al terziario, aumentando la precarietà, introducendo nuove e sempre più incisive tecnologie. Trasformazioni che troppo spesso trovano la politica impreparata o legata a vecchi schemi, come il simulacro di Alitalia sta lì a dimostrare. Io rimprovero al governo precedente, a questo governo, l'incapacità di fare le scelte. Le scelte che ci danno l'opportunità di dare quella che noi chiediamo, una crescita vera al Paese, che sia una crescita inclusiva e che quindi il lavoro e le persone abbiano ruolo, partecipe in questo benessere. Fondamentale quindi il ruolo di sindacati, associazioni di categoria, bersaglio di quella disintermediazione che non ha ancora perso slancio e di cui l'esito della ricerca mostra chiaramente la profonda miopia. Ha portato alla luce l'opportunità che un'azione concertata tra attività sindacali da una parte e attività datoriali dall'altra hanno comunque contenuto il disagio anche sociale, soprattutto sociale, che in questi anni diversamente si sarebbe manifestato in maniera ancora più acuta. Nota positiva degli ultimi dieci anni, l'ingresso sempre più massiccio di donne nel mondo del lavoro. È venuto probabilmente anche per fattori culturali, quindi le nuove generazioni di donne sicuramente sentono molto di più l'esigenza anche di affermarsi nel mondo del lavoro, con tutte poi le difficoltà, ahimè, di conciliare il ruolo di mamma molte volte con quello anche del lavoro. Non sempre i servizi e le opportunità, le attenzioni a queste esigenze sono all'altezza di queste realtà. L'altro aspetto è sicuramente quello che dicevamo prima legato all'evoluzione dei settori merceologici. Nel settore appunto del terziario, dei servizi, la componente femminile è apprezzata, diciamo così, tanto quanto quella maschile o comunque indifferente, quindi lì si trova, troverebbero ancora molto più opportunità di occupazione di quanto magari nel passato le donne lo trovavano nel mondo della produzione. Sono tanti gli spunti e le voci raccolti da Rete 55 nel corso del convegno. Ve li racconteremo nello speciale in onda sabato 23 novembre alle 12.45, 19.30 e 22.30. Anche quest'anno il premio intitolato al compianto Salvatore Furia ha un destinatario di prestigio, il professor Settis, che oggi ha piantato un albero ai giardini estensi. Un albero, in ricordo di Salvatore Furia, che tanto amava la natura, è in onore di Salvatore Settis, archeologo, storico dell'arte e vincitore della terza edizione del premio Ecologia Città di Varese. La consegna è prevista questa sera alle 21, in Salone Estense. Nell'occasione il professor Settis terrà una Lectio Magistralis dal titolo Costituzione, Cultura, tutela, il paesaggio, i beni culturali, l'ambiente. E sempre oggi, mattinata, è stato anche piantumato ai giardini estensi un alberello, un tupelo nero, in zona Laghetto dei Cigni. Mettere a dimora un albero, specialmente se raro, è un investimento per il futuro. Ecco perché all'interno del premio Ecologia Città di Varese Salvatore Furia mettiamo sempre a dimora un albero per la cittadinanza che vedrà la vita nostra, di nostri figli, e dei nostri nipoti. Quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di aver dato questo premio al professor Salvatore Settis, quindi siamo particolarmente fieri come amministrazione che questo premio acquisti importanza, benemerenza e persone che ne parlino. Un gesto di generosità spontaneo e molto molto apprezzato, oltre che utile dal punto di vista pratico. I coniugi fantinato, freschi di matrimonio, non hanno voluto regali per sé, hanno voluto che gli invitati destinassero i fondi del dono di nozze a un fine davvero nobile, un apparecchio di ultima generazione per l'ospedale del Ponte. Siccome non avevamo bisogno di nessun regalo, abbiamo ritenuto che donare tutti i doni ricevuti dai nostri ospiti era la cosa che ci avrebbe fatto più piacere e resi più felici. E quindi abbiamo pensato al Ponte del Sorriso per aiutare i bambini, visto che siamo anche genitori, si sembrava una cosa bella da fare. Gli occhi lucidi di Roberta e Paolo Fantinato spiegano più di mille parole. La loro è stata una scelta generosa, spontanea, dettata dal cuore di due innamorati, genitori e imprenditori, desiderosi di esprimere affetto alla propria comunità locale, con la concretezza di un gesto utile, in alcuni casi vitale. Roberta e Paolo hanno voluto festeggiare così il loro matrimonio, riuscendo a donare al del Ponte, un ecocardiografo portatile da 30.000 euro. È un apparecchio che ha delle caratteristiche significative di portabilità, di affidabilità, anche al letto del malato in condizioni critiche, che ci permette così di raggiungere velocemente e fare delle diagnosi anche accurate. Riguarda l'area infantile, ma anche l'area della donna, che sono presenti nell'ospedale della donna e del bambino. Di gesti analoghi se ne sono già visti, ma non di questa portata e di questo valore, conferma la vulcanica Emanuela del Ponte del Sorriso. Il cuore è l'organo centrale del nostro corpo e non è solo quello che pulsa sangue, ma quello che identifichiamo anche con l'amore, con le emozioni, con i sentimenti e con l'anima. Curarlo e curarlo bene significa migliorare la vita, la qualità della vita, perché un cuore sano è un cuore che garantisce un'esistenza senza costrizioni e condizioni. In questi giorni si celebra la lotta prioritaria a ogni forma di violenza e sopruso contro le donne. Andiamo a Somma Lombardo per le ultime iniziative. Due panchine rosse, simbolo di una città che dice no alla violenza sulle donne, sono state posizionate a Somma Lombardo, in Largo Sant'Agnese, luogo di ritrovo e di passaggio nel centro della città. L'amministrazione comunale ha deciso di celebrare così quest'anno la giornata internazionale contro la violenza di genere, in programma il 25 novembre. Ma non finisce qui. Somma propone anche uno spettacolo teatrale, in programma in Sala Polivalente, sabato alle 18 e a ingresso gratuito. Si intitola Ti amo da morire e vede sul palco la brava Betty Colombo. Lo spettacolo, tratto dall'omonimo racconto di Dacia Maraini, parla di quell'amore malato che può degenerare in ossessione e che può perfino portare al femminicidio. È un momento davvero di riflessione e di empatia nei confronti di tutte le vittime di violenza. Ricordiamo che è una violenza che si annida spesso all'interno delle nostre case e che non deve essere taciuta, perché la paura uccide. E sempre sabato, sempre a Somma Lombardo, si parlerà di truffe. Alle 9.30, ancora una volta in Sala Polivalente, il luogotenente Michelangelo Segreto e il personale della stazione cittadina dei Carabinieri affronteranno questo tema, rivolgendosi in particolar modo agli anziani. L'incontro, aperto al pubblico, è organizzato con la collaborazione dell'Università per Adulti e Terza Età. Sarà un momento informativo rivolto a tutta la popolazione, agli anziani in particolar modo, per avere informazioni utili su come evitare le truffe che molto spesso colpiscono appunto gli anziani. Nuovo sotto insieme della famiglia Aime si dedica in particolar modo agli immobili alla casa. Aime e Ajac insieme per una gestione degli immobili innovativa. Ajac, l'Associazione degli Amministratori Condominali, ha deciso di entrare nel gruppo di Aime per favorire un cambio di mentalità e un'evoluzione della professione. L'amministratore di condominio oggi deve essere a tutti gli effetti un imprenditore capace di identificare e risolvere i problemi in tempi brevi, soddisfacendo a pieno le esigenze dei condomini. Ajac, l'Associazione degli Amministratori di Condominio, la prima associazione di professionisti sul territorio di Avarese, con 300 iscritti, aderito ad Aime, un'associazione di imprenditori. Per quale motivo? In realtà, dopo la riforma degli stabili del 2012, la professione dell'amministratore di condominio è completamente cambiata. Quindi si è passata da professionista a imprenditore. Quindi l'amministratore di condominio moderno, quindi 3.0, deve apprendere anche da altri settori per riformare, riaggiornare la propria professione di amministratore di condominio e far vivere sempre meglio, qualitativamente, anche come vivono a livello europeo mondiale, i propri condomini. Tra i progetti in cantiere, quello destinato alla riduzione dell'uso della plastica. Il 70% della popolazione locale vive in condominio, spiega Leta. Si potrebbe dunque sensibilizzare queste famiglie, consegnando una targa ai condomini più virtuosi. Parole forti contro il generale Cadorna, celebrato da tante vie, piazze e stazioni italiane, ma ignobile, prima di tutto dal punto di vista umano. Sono frasi di Alfio Caruso, celebrato e popolare, scrittore siciliano, specializzato in letteratura di mafia, ma anche in saggi di carattere storico, dedicati in particolare al mondo degli alpini. È stato ospite delle penne nere di Varese. Senta, ma ci sono anche tanti falsi miti lungo la nostra storia nazionale. Abbiamo ancora centinaia di piazze intitolate a Cadorna. A giudicare dalla sua ricostruzione non lo merita. Cadorna credo che sia uno dei figuri che abbia ammazzato più italiani nei 4.000 anni di storia di questo paese. Io credo che lui abbia un'enorme responsabilità che era la totale mancanza di rispetto nei confronti dei suoi soldati. Per lui erano solo carne da macello e se i piani fallivano la colpa era dei soldati che si sono fatti massacrare, non di chi questi piani aveva ideato, cioè lui. Con la fine, ormai è passato qualche anno, del servizio militare obbligatorio, cosa ne sarà degli alpini? Gli alpini sono uno dei capisaldi di questo paese. Io credo che gli alpini comunque rimarranno anche con l'esercito di volontari, l'esercito di professionisti, come peraltro si sta vedendo in questo periodo. Forse bisognerebbe incentivare la possibilità di iscriversi perché ogni anno l'esercito è costretto a rimandare indietro tanti che invece vorrebbero entrare nei suoi ranghi. E credo che ci sia anche bisogno di avere ulteriori forze a disposizione con quello che è il crescente impegno militare dell'Italia. Il suo ultimo libro, Salvate gli italiani, parla di una storia poco conosciuta nel rapporto tra Mussolini e Hitler. Perché ha deciso di raccontarla? Proprio per svelarla. È una storia totalmente ignota. E Mussolini, che poche ore prima di incontrare Hitler a Rastenburg, il 20 luglio del 1944, dice al generale Morera, che era il comandante della missione militare della Repubblica di Salò a Berlino, che dovrà fare non il possibile, ma l'impossibile per riportare a casa i 700 mila militari nelle grinfie dei nazisti. E dice, sono stanco di vederli tornare indietro o nelle bare o tubercolotici. Dobbiamo salvarli perché sono non solo il fiorfiore del paese, ma anche il futuro dell'Italia. Io credo che Mussolini lo faccia perché è spinto già dall'attenzione al giudizio dei posteri. Lo faccia perché vuole confermare a se stesso che lui e la Repubblica di Salò rappresentano comunque uno scudo per gli italiani. E non è vero. E poi perché gli è preso un desiderio di rivalza, di rivincita nei confronti di Hitler. Si avvicinano a una nuova puntata di Poetando, che vi vogliamo presentare. Anche Poetando, la trasmissione di Rete 55 in onda alle 23.10 del sabato e della domenica è stata protagonista della prestigiosa kermesse milanese Book City Milano. Nelle puntate in onda sabato 23 e domenica 24 novembre potrete assistere alla prima parte dello speciale che Luisa Cozzi, direttrice editoriale di Poetando, dedica al fondo delle parole. Il libro del teologo Roberto Maier che indaga il rapporto tra spiritualità e poesia, soprattutto contemporanea, accostando la fenomenologia della parola umana alla rivelazione cristiana del Dio Logos, parola. Il volume si concentra inoltre sul tema dell'ispirazione, termine comune all'esperienza sia del poeta che del mistico. Un breve laboratorio dedicato anche all'opera di Giorgio Caproni, La prefazione è a cura del teologo Giovanni Trabucco. E concludiamo la pagina culturale con l'arte. Una mostra a Varese racconta la storia della carta. Varese 1902 Storie di donne e storie di doni porta in scena dal 23 novembre alle 16 all'8 dicembre una rara collezione di carta a Varese, un'esposizione di oggetti vintage abbelliti da questa decorazione e le miniature gioiello di Adele Lofeudo realizzate con le protagoniste della carta a Varese. Si tratta di quattro donne della famiglia Ponti che nel 1902 decidono di riavviare con la cartiera Molina un proprio marchio e la denominazione di Varese l'antica produzione di carta della stamperia veneziana a Remondini. La storia avverte sul riavvio della produzione della carta decorata con antichi stampi provenienti da una azienda bassanese fallita alla metà dell'Ottocento che per volere delle signore Ponti le figlie di Virginia Ponti moglie di Andrea e di Remigia moglie di Ettore figlio di Andrea queste quattro nobile donne decidono di riavviare nel 1902 la produzione di questa carta decorata particolarmente ambita particolarmente ricercata dell'aristocrazia e della borghesia dell'epoca. A tutti buonasera dal centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori domani molto nuvoloso o coperto brevi schierite sulla bassa padana nel pomeriggio nella notte e al mattino piogge e in montagna nevicate oltre 1200 1400 metri nel tardo pomeriggio e in serata asciutto sulla pianura temperature massime in diminuzione. In agenda dello sport il calcio di eccellenze e la nuova puntata di Bocce Forum dopo le sigle. Grazie a tutti.